E benvenuti in questo spin-off video della rubrica Words on Streaming di Fantascientificast. Lo so che in questa torrida estate di virus non sapete che fare, quindi eccovi qualche rapido consiglio per le vostre visioni di streaming sui principali servizi digitali disponibili in Italia. Ma prima, sigla! Pronti a partire ora? Benissimo! Però vorrei prima ricordarvi di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina e mi raccomando non dimenticatevi www.marcotadia.net per sapere anche come supportare la mia attività. Ora siamo veramente pronti a partire e sappiate però che suddividerò i miei video di consigli a seconda della piattaforma di streaming e troverete il link in descrizione. Partiamo subito con Netflix, sicuramente la più sfruttata dagli italiani. al momento. Essendo questo uno spin-off di Woz, inizio dalla fantascienza con Old Guard, certamente non un film perfetto ma fatto molto bene e gradevole, interessante, soprattutto non pesante, ben realizzato, che ti fa passare due ore in un clima di azione mai pesante. La presenza di Charlize Theron al comando di questo gruppo di immortali, che ha attraversato a epoche storiche e che sono oggetto di ricerche scientifiche, è un plus non da poco. Non dimentichiamoci però che anche la presenza del buon Marinelli, noto soprattutto per la sua performance, lo chiamavano Gig Robo, che fra l'altro proprio il 25 agosto ritornerà a catalogo Netflix. Non penso ci sia molto da dire su questo film di supereroi italiano dei soborghi romani e che è assolutamente da guardare. Arrivata poi la seconda stagione di The Umbrella Academy è nettamente superiore alla prima e spacca veramente di brutto. Quindi se vi piacciono i paradossi spazio-temporali e i supereroi con problemi personali, questa è la serie che fa per voi. Uscito i primi di luglio non posso che sconsigliarvi di avvicinarvi a Warrior Nun se avete più di 16 anni. Presa un'idea interessante di un fumetto è realizzata però malissimo, lento, senza senso, con pochi e scarsi combattimenti e soprattutto con un finale crossover che ti fa imbestialire e non poco. Apro ora una piccola parentesi anime dove non posso che dirvi di aspettare con ansia a Grezzuco nella sua terza stagione in uscita il 27 agosto, un ottimo spaccato, realistico ma comico, della società giapponese fortemente sessista e chiusa in classi sociali. Sempre sugli anime potreste recuperare Noragami se vi piace il mondo dei demoni legato anche alla vita terrena e perché non guardare anche una Kamega Kill, non certo nuovo, ma che è arrivato da poco su questa piattaforma. Ho evitato accuratamente Cursed perché ho retto soltanto il primo episodio e poi ho deciso di non guardarlo più e preferisco sinceramente non aggiungere altro. Segnalo poi l'acquisizione di Cobra Kai, decretandone così l'abbandono da parte di YouTube Red, ed è in arrivo su Netflix questo 28 agosto. Quindi se vi è piaciuto Karate Kid, segnatevelo, mi raccomando. Per la parte cosa a vedere di leggero a tempo perso, eccovi rapidamente alcuni consigli tipo Eurotrip, datato ma comunque simpatico e ignorante, sotto il sole di Riccione, ottima evoluzione moderna delle classici Rimini Rimini degli anni 80 e Last Vegas dove quattro superattoroni provano di far ridere e divertire il pubblico con una trama non proprio originale. Ora è il momento di Amazon Prime Video che purtroppo non sto sfruttando appieno perché mi continuo a consigliare solo del grande tresciume degno dell'asylum oppure peggio. Se non l'avete già fatto però guardatevi l'ottimo 1917 che come film sulla prima guerra mondiale non è per nulla male e non dimenticatevi nemmeno di First Man che parla di come Neil Armstrong sia arrivato ad essere il primo uomo a mettere piede sulla luna nel luglio del 69. Sì, ci siamo andati sulla luna, tranquilli. Sono poi da poco entrate nel catalogo serie indimenticabili come X-File, Mad Men, Sons of Anarchy, The Office, 24 addirittura e Misfit, quello inglese del 2009. Purtroppo però dovremo attendere finora i primi di settembre per la seconda stagione di The Boys che vi raccomando assolutamente di recuperare se non l'avete già vista. Parlando di serie anime ho visto Kabukicho, una rivisitazione di Sherlock Holmes in chiave giapponese che alla fine non è male. Ho poi intenzione di vedere L'impero dei cadaveri e Harmony perché sembrano veramente interessanti come storie, anche se non certo recenti. Segnalo anche Blade of the Immortal se vi piace l'ambientazione storica giapponese mista a miti e leggende del sollevante. Ma la parte grossa di Prime è sicuramente il trash con addirittura Atla, Flagello di Dio, Howard Zedak, Kiyashan, Nana e Red Eagle, giusto per citarne alcuni, ma la lista è così lunga che veramente ci si potrebbe perdere dentro l'anima a guardarli tutti. Ritornando alle cose impegnate ricordatevi di Cena con delitto, Goodbye Lenin e Blade Runner 2049. Il tempo di Disney Plus è finalmente giunto, ma cosa c'è da segnalarvi? In nulla più assoluto, da due mesi a questa parte il catalogo è veramente bloccato da nuovi ingressi e rimane tutto confinato ai film del catalogo Marvel, Star Wars e Disney. Ma sinceramente, fin quanto ha senso continuare a riguardarli continuamente? Purtroppo, a parte Mandalorian e la prima stagione di DuckTaste, quello moderno, le uniche uscite sono per un pubblico di bambini o ragazzi di al massimo 14 anni. E a dire il vero, probabilmente pure il da poco uscito Artemis Flow potrebbe risultare indigesto anche a questi ultimi, visto quanto è palesemente fatto male. Quindi buttatevi su un rewatch, tipo del Pianeta del Tesoro, o i vari Sister Act, i vari film sportivi, magari partendo da 4 sotto 0. Giusto qualche cosa di interessante tra i documentari del Nat Geo con Giappone sulle Orme della Neve, Lost Cities con Arbat Lin o lo show Cosa ti dice Il Cervello. In ultimo vi parlo ora di 4Vid e del suo catalogo di cui ci sono tantissimi trash e anime da recuperare, se non lo avete già fatto. Partendo per esempio dagli anime segnalo Decadence, un futuro post-apocalittico con forme di vite sconosciute che hanno preso possesso del pianeta. Poi c'è l'ennesimo capito di Sword Art Online, in questo caso è Alic... 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 non so neanche come si pronuncia... con la seconda parte della storia in simulcast fra l'altro. Tra le varie cose da recuperare c'è l'attacco dei giganti, One Punch Man, Tokyo Ghoul, Planetes, quest'ultimo lo consiglio molto, Stain Gates, GTO e Star Blazer 2199, ma è solo per citarne alcuni. Passando ai live action o film trash-onici, c'è l'imbarazzo della scelta. Si può partire da Entai Kamen e finire a Birdemic, passando per Hentiran o i vari Sharknado. Ma voi, amanti del Giappone, non potete evitare la visione di classici come Big Man Japan o Kaiju Mono, per quanto riguarda i mostroni del sollevante, o il film di Kitano come Boiling Point o Violent Cop, se più legati alla Yakuza. Con questo direi che ho finito. Se avete segnalazioni, modifiche o aggiunte, lasciate pure i vostri commenti che sono più che graditi. Spero che i miei consigli vi abbiano reso più godibile questo vostro agosto sullo streaming italiano e che magari vi abbiano fatto conoscere qualcosa di nuovo. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!